In questo tutorial troverai tutte le informazioni necessarie per utilizzare il comando remoto C800 Wi-Fi o TRQ e tanti suggerimenti per le funzioni smart dell'app IntelliClima+. Una volta che C800 Wi-Fi o TRQ è stato installato, il display è spento, significa che è in standby. Un leggero tocco sul tasto centrale Mode consente di attivare lo schermo, visualizzare la modalità di funzionamento corrente e la temperatura ambiente. Puoi toccare una seconda volta sul tasto centrale per selezionare la modalità di funzionamento più adatta alle tue esigenze. Seleziona la modalità Off per spegnere l'impianto, ad esempio quando sei fuori casa per lunghi periodi. Seleziona la modalità Manuale per mantenere una temperatura ambiente costante. Selezionando invece le modalità di funzionamento settimanale auto o giornaliera holiday è possibile usufruire di programmi orari su profilo settimanale o giornaliero, predefiniti e modificabili dall'utente, in grado di ottimizzare il funzionamento dell'impianto in funzione delle diverse abitudini dell'utente. Se abilitata la modalità di funzionamento ACS, il controllo remoto è in grado di gestire anche un programma di temperature per la produzione di acqua calda sanitaria. La selezione verrà confermata con un lampeggio del parametro visualizzato. Al termine del salvataggio il display tornerà in standby. Sempre a display acceso, toccando le frecce Up o Down è inoltre possibile modificare il valore della temperatura desiderata. In modalità Auto, Holiday e ACS, la modifica della temperatura effettuata da dispositivo sarà temporanea e tornerà ai valori impostati inizialmente al successivo avanzamento sulla fascia di profilo. Per modificare definitivamente la temperatura desiderata è necessario accedere all'app Inteliclima+. A display attivo, tenendo premuto il tasto centrale Mode per più di 3 secondi, si accede al menu utente. Tocca ripetutamente il tasto centrale per scorrere tra le voci di menu. Utilizza le frecce per cambiare le impostazioni della voce selezionata. Ulteriori impostazioni del comando remoto possono essere modificate nel menu Funzioni avanzate. A display attivo, tieni premute entrambe le frecce Up e Down per 3 secondi. Quindi, tocca ripetutamente il tasto centrale per scorrere tra le voci di menu. Con C800 Wi-Fi o TRQ è infatti possibile comandare l'impianto scegliendo una delle differenti regolazioni. A punto fisso viene impostata una temperatura fissa dell'acqua dimandata in base al tipo di impianto selezionato, radiatori, fan coil, pannelli radianti. Regolazione climatica. La temperatura dimandata viene corretta in funzione della temperatura esterna per ottenere una temperatura ambiente costante. I relativi parametri sono settati di default per impianti a radiatori e sono personalizzabili da app. Correzione ambiente. La temperatura dimandata richiesta dal dispositivo viene corretta in funzione al valore del parametro di correzione impostato. Raccomandiamo che la configurazione di questi parametri del termostato sia effettuata solo da personale qualificato. Per avere maggiori dettagli sulle funzioni del comando remoto C800 Wi-Fi o TRQ, consulta il manuale di istruzioni completo disponibile online.